benvenuti al nostro viola blog di oggi quest'oggi che al centro sportivo c'è una presenza in più i ragazzi si stanno allenando sotto gli occhi attenti del presidente commissio il presidente tra l'altro aveva già salutato la squadra nella giornata di ieri prima che entrassero in campo e adesso andiamo ad ascoltare le parole del migliore in campo scelto da voi Gaetaro Castrovillis scelto dai nostri tifosi come migliore in campo di Fiorentina Inter ringrazio i tifosi di essere un punto di partenza e devo ancora migliorare sotto l'aspetto e la concretezza sottoporto tra l'altro ieri hai raggiunto un traguardo importante ci importa presenti da titolare con la maglia della Fiorentina in tutte le competizioni qual è la partita che ricordi con maggiore entusiasmo? forse la partita contro il Milan San Siro ho fatto anche il mio primo gol in Serie A domenica un'altra sfida importante vi attende contro il Napoli nella scorsa partita avete vinto che cosa ti aspetti quindi da questa sfida? dobbiamo dare continuità la partita di ieri ci ha lasciato una mare in bocca quindi questa mare la dobbiamo trasformare in aggressività e concretezza con il Napoli e in casa Fiorentina è anche un giorno importante per il rinnovo di Pietro Terracciano portiere di grande affidabilità che si è reso protagonista anche ieri grazie alle sue parate decisive nella partita contro l'Inter nella giornata di oggi ha firmato il contratto che lo legherà i Viola fino al 2023 vi do appuntamento a domani dove seguiremo la primavera di mister Aquilani forza Viola